Vuoi protestare contro la guerra? Protesta qui a Old Rimrock. E come marciando intorno all'ufficio postale? Portiamo la guerra in casa, non è lo slogan. Senti, ho avuto questo premio. È una stupida targa, ma significa che se fai quello in cui credi, la gente lo nota. Ti puoi opporre alla guerra anche qui, con tutte le tue forze. Anche questo è un pezzo d'America, sai? Leggi Marx. Non è in campagna che comincia la rivoluzione. Ma non stiamo parlando di rivoluzione. Tu non parli di rivoluzione. Pensa a quello che ti ho detto.